Nella mattinata di mercoledì 17 luglio, il personale della DIGOS della Questura di Torino, nell'ambito dell'operazione Matra coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, UCGOS, ha proceduto a sequestro presso il deposito di Riva Nazano Terme, dove era stato rinvenuto nei giorni scorsi un missile, di due razziere tipo LR-0, impiegate quali parti di arma da guerra per armamento di aerei modelli MB-339 in dotazione anche all'aernautica militare italiana. L'attività della DIGOS di Torino, coordinata dalle procure della Repubblica di Torino-Pavia, è stata eseguita durante la perquisizione del predetto deposito con la collaborazione degli artificieri e dell'esercito italiano.